Continua il discorso mod nello stand di Lenovo, siamo qui davanti ad un vero e proprio proiettore per Moto Z. Troviamo questa base che permette la regolazione del dispositivo e appunto della proiezione che andiamo ad effettuare del nostro schermo. Fisicamente è composto in questo modo, troviamo un LED con una potenza di 50 lumen nella parte centrale, alla sua destra troviamo una rotellina per la regolazione della messa a fuoco, mentre alla sua sinistra abbiamo un tasto per le varie impostazioni ed una piccola ventolina di dissipazione del calore. Vedendo praticamente come funziona il proiettore, possiamo vedere come va a proiettare l'immagine che stiamo trasmettendo sul nostro dispositivo, in questo caso su una parete. Possiamo arrivare fino ad un massimo di 70 pollici, possiamo regolare con la rotellina la messa a fuoco e possiamo andare a mettere mani a delle impostazioni rapide. Ha un'autonomia di circa due ore, quindi ci permette tranquillamente di usufruire del dispositivo per goderci magari un film. Quindi si amplia la famiglia dei mods per Lenovo Moto Z e per Tecno Android in questo momento è tutto, un saluto da Emilio Colangelo.